Il CEF passavrà un aspetto nuovo, moderno, ma sempre ricco di verde nei prossimi anni. Un impatto visivo decisamente d'effetto per chi arriverà dal nuovo ingresso della sede di Caltagnissette si troverà di fronte a una realtà completamente diversa rispetto al passato, con un restyling che coinvolgerà i 16 edifici che fanno parte del campus di oltre 7 ettari, strutture esistenti che risalgono alla fine degli anni Ottanta e ai primi anni Novanta. La riqualificazione architettonica, funzionale, ambientale ed energetica del patrimonio edilizio rientrava infatti tra le linee del piano operativo e strategico varato nel 2020 del CEF pass 4K. Già dal marzo del 2021 si lavora alle progettazioni esecutive grazie all'impegno di una struttura di progettazione e direzione dei lavori, struttura fuori organico che si affianca al personale ordinario del CEF pass, formata da 15 professionisti tra ingegneri e architetti, due geometri e un avvocato e diretta da un architetto, dottore di ricerca, già docente di progettazione edilizia integrata nell'Università di Palermo. I componenti della struttura sono stati selezionati attraverso un concorso pubblico nei primi mesi del 2021. Elemento qualificante e anche prova d'esame è la conoscenza degli strumenti BIM, Building Information Modeling, che permettono di creare modelli virtuali in 3D che comprendono non soltanto informazioni sull'aspetto esterno dell'edificio ed energetico, ma anche l'arredamento e dati che riguardano tempi, costi e non solo. La strategia del CEF pass sia nell'offerta formativa, sia nella riqualificazione progettuale del centro è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, afferma il direttore generale del CEF pass Roberto Sanfilippo. È un approccio necessario che deve far fronte alle nuove sfide sociali e ambientali di tutti i giorni. Non si tratta soltanto di un intervento di ristrutturazione edilizia, prosegue, ma di una trasformazione culturale che ha evidenti ricadute sulla tutela dell'ambiente e sulla dipendenza dalle fonti energetiche rinnovabili grazie a soluzioni costruttive e impiantistiche capaci di garantire elevati standard di qualità ed efficienza. Ripensare il CEF pass in questa visione di nuova generazione significa consegnare al nostro territorio e ai tanti fruitori del centro una struttura innovativa, accogliente e unica nel bacino euro-mediterraneo. In materia di sostenibilità, conclude, peraltro al CEF pass è stato affidato ruolo propulsivo, con particolare riferimento all'attuazione delle emissioni previste dal PNRR, soprattutto sui temi della transizione ecologica e digitale.